salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con quattorececimo video di gta 5 siamo in compagnia di klyors 2 2 0 ciao a tutti dobbiamo bulldeer e cobra allora eeeh tali cosa dobbiamo fare? distruggere qualcosa? ok eeeh tali cosa dobbiamo fare anche le cose che non c'è intercettato né avere delle idee quindi fare tipo così e fare solo le cose e non succede assolutamente niente bello eeeh tali eeeh tali ahahah ho giù ahahah 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 effetto buono lo vedete ecco meglio così ooooh attenzione non è un elicottero da abbattere ma qui dietro c'è gente di punta e vi sparato bisogna uccidere prima di due dove sono le rampe lanciano granate adesive e prendo solo quello io ooooh c'è cacatus oh ma non è strade mica lei eeeh tali ma 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 cóctete sparare l-n anhiettere solamente in avanti iiii ci ho appena accorto hullro dita la prossima meta ha lasciato perdere i nemici dietro per andare avanti via via avanti tutta attenzione attraversamento cactus bene ha fatto fuori smittraillatrici io solo la mitraillatrici però non ho lanciarazzi eh di saper solo quello o lo sennò un po' di saperlo tu hai lanciato? no no esprugi il cargobob dov'è il cargobob? dove siamo noi? dovete sedere in un'altra eeeh non tirate il pinto eeeh sento anche chi sta battendo il moso vai con il bluzardo aiuto eeeh sempre detto così andiamo piano avanti occhio sotto ci sono dei nemici che vogliono far fuori e pop esplode ciao pop adios eh stavo t'anticipiamo un po' ne ho giuti qua e volevo far fuori G no qua c'è l'aereo ho c'ho ho c'ho pianta no c'ho l'aereo ma che fai uganber comunque ragazzi sostanzialmente il problema è che per fare la missione colpo il casino ci servono all'incirca un milione di dollari eeeh di conseguenza dobbiamo fare molte molte missioni per riuscire a guadagnare a guadagnare qualcosa eeeh si non andate vieni 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 si vede eh, faccio fatica a mirare così, Fabio ho visto cose io devo cercare di andare il più aspetto possibile altrimenti faccio capinare e faccio caccarmi aspetta, aspettiamo un po' aspettiamo un po' nero, va va, 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 va qui bene, ah, quello lascia me che... ma in un momento, distruggiamo quello ah, dov'è, dov'è esplodere eh, sobrino, sobrino questo, questo distruggi questo preso per l'aereo mamma mia ah, si, questo boom l'ultimo cargo ah, va di tutto imbriago imbriago in deuma eh, cerchiamo di restare in piedi non scapparci come dei poveri che succede? eh, sta cosa qualcuno ha sganciato una mina qualcuno ci sta andando un po' a caso intanto ho altre mine che esplodono mhm cosi a caso, eh? eh, come si attenzione il trenno, attenzione ah, per casa li potevo dare i spettellati per bene PAPIOOOOO mamma che saldo mamma 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 eh, ha ricevuto qualche piccolo occhio bomba si, ma non tirati in giro le bombe FABIO non esplode cioè, non esplode beh specificiamo non scommettiamo ecco, lui esplode siamo siamo ok eh oh, come? eh, non hai finito non hai finito non hai finito no, no certo tutto quello che era giusto un altro pop un altro pop eh, uuuuh eh, sì grazie per la cittarella perché sono ruote aperto eh, 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 eh eh, eh, eh occhio posti blocco qua dann tre due uno helicottero ma non una roba che vola esclusivi grazie eh si fabio rallenta un po' rallenta un po' ok vai, vai accelera eh, poi se no non riesco a tenerlo sotto tiro eh è stato vai vai corri, corri, corri vai andiamo a prendere l'amico Bob qua accelera accelera fabio accelera bene esploso io ho permesso il Gartier e il Bob ciao Bob che sincronia tra la macchina girati un attimo Fabio che c'è qualcuno dietro da portare dietro i betti senza sfacciarli bene hit eh mamma mia guida in maniera normale non mi ingresiti c'è un altro nemico eh no orgo ah eh sì questi sì vabbè chi c'è anche davanti e passiamo dritti possibili mini e tra poco forse dai ops non più eh 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 quale è successo? ah niente bu no no oh quello dopo no sempre voi di mezzo non cimile a cara quando esplodiamo noi eh ah 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 ma ah 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 Eh, bisogna fare un po' di strada, a volte, beh. E' uno che sta correndo in... a zig e zag. Cosa corri? Dov'è che vuole andare a Audi e R.O.? Oh. Eh, guarda, 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 guarda. Stico che si portellano. Eeeh. Non fa mica parecchi da carri, violenze di s*****. No, ma non siamo mica violenti, eh. Nooo. Perché sull'auto che esplode non è caso. Eeeh. Oh, è il muretto. Dov'è a farli fuori questi? No, perché sennò avevo già puntato in testa la minigun. E tadaaa. E soldi arrivò tra 23. Eeeh. Oh la, 27 e 3. Quanti soldi, 27 e 30. Ah sì, perché siamo in tanti. Attenzione, rango 81. Rango 33? Un'altra missioncina giusto per guadagnare un franco. Eeeh. Siamo sulla base operativa del signor Kubrischi. Bello è che siamo uguali, quindi non sai chi sia, chi è lui e chi sono io. Ah no, ma c'è tutto. Ma la vera domanda è chi è franco? Allora. Eh adesso non posso dirti tutte queste informazioni private, eh. come se non c'è... No, un minino, corri! Eeeh. Vito e squadra una, wow! Allora. Lancia un missile di balistica. L'ancia un missile di ballistica. Eeeh. Ele sapevo le batteri con la sbar. Nooo. Eeeh. È una coda con la sbar. Eeeh. Ogni quest'ora c'è. Eeeh. Per capire. Va a fare la fighettakkk. Ieeh. Eeeh. allora andiamo raggiungiamo forse non è il veicolo migliore per lo sterrato nemmeno per me ma ce l'ho fatto ok non anche io lo ho deciso perfettamente ti hai visto una smart modificata con un uomo sotto il sedere quanto par non è rischiato ok raggiungiamo il cantiere dai con questi 14 dunque siamo quasi arrivati bestia ladro ma che cazzo mi sono sparando anche da qua ok ok il destino di te vediamo la prossima ah non è più o meno va ancora bene abbastanza complicato sto arrivando oh no oh ma non muore eh che cavolo si ma si sparano in la vista è tutto è una macchina che si diverte a correre come una negra si no più che correre bisogna avere esattamente una minica ciao bene vado fuori ma varra che cazzo è che mi sto sparando qua ma cosa dobbiamo fare? prendere un pick up suo? no ah elimina la squadra ai 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 mi sto sparando aiuto dolore marco scorsare in macchina non è una buona idea potete farmi avanzare tecnicamente ehm 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 ah preparazione fallita proprio sono pure senza macchina per colpa vostra dunque ehm ci siamo dovuti fermare un attimo qui perchè Buldir ha boccato una gomma ehm bene riprendiamo da dove eravamo rimasti ah ma guido io bene ma 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 povero è che state le bombe Brino non perdere tempo con cose zitti lì non sprecare munizioni ma non consumiamo neanche i coprotoni eh neanche consumare le coprotoni la portiera chiudi la porta eh ah voglio di metterci magari ehm no aiuto tipo qua dietro no così credo che può andar bene tra un mucchio di roba non morite con i poveri dei figli ah sì dietro 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 ma ma ahiaiaia no no ma 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 no 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 ok ho finito le munizioni si sono qua si è che ho già finito le munizioni da mini ma andate subito è un po' complicata questa missionina ma non muoiono non muoiono mai ma non si è no 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 voglio qualcosa di serio ahia ma perchè muoio come un povero ebete ok all'occhio eh qua sparano ahia ma da dove sparano non lo so ahia dov'è che cacchio certo dove no non è possibile ho quasi finito la vita da dove gli ami ne hanno sparato mangia qualcosa Marco eh adesso ho me una costatina eh oh si entra aspetta aspetta che ho fame bene eh sentiamo armi futuristiche qua intanto morto ahia sparano ancora via dietro qua dietro qua correte soldi soldini un attimo che ricarico un po' la vita mamma c'era l'autorampo che ci poteva farne strage eh magari non sta venendo davanti proprio ah ma c'hanno il co hanno giocato i proiettili credo che sono immortali sti qua che cacchio credo guarda guarda mirare sempre la testa mi raccomando ma possiamo andare via? eh no prima eliminiamo eh che cavolo vabbè ma io se io mi porto fuori giusto per l'altro due mancano un po' di che scopo ma spara lancia missili almeno yes sì ci sono io qua eh eh mi scusi hai cambiato l'olio? eh sì sì auto rampa sai che vuoi montare qua sopra? hack per attivare o disattivare i lanciamissili del passeggero oh adesso è complicata eh mi sembra che bisogna difendere per bene andiamo a se riesco a fare arrivare un qualcosina eh c'è già l'auto rampa qua cosa devo fare con l'auto rampa? eh difendere devi cercare di far cammottare la qui no uno deve montare sopra il camion oh arrivo aspetta aspetta ecco bene così si impara dovresti poter usare i lanciamissili penso oh non mi investire sto facendo anche io cose belle oh sì va bene andiamo andiamo eh sì andiamo davanti al camion invece panica sotto una macchina eh ci sono nemici vedo io potrei volare ahia ma Fabio puoi sparare nooo no devi attivare te che dopo lui può usarlo oh ecco 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 eh 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 eeeh eeeh lancia una torre oh! si va via, ho soffrenato disattiva, disattiva eh non si disattiva se finchia Fabio forse non lo lascia no no, poi disattivalo quando vuoi eh ma se premo H non si disattiva ah ok via 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 mamma mia no il camion comunque Fabio beh ha fatto fuori tipo 4 500 aerei ha fatto fuori se no penso oh caracca siamo arrivati a noi ma devi liberarmi la strada no? tirarmi di ad oggi esatto devo aver forse una ruota bucata eh ma hai no 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 via e girare di qua di qua di qua di qua di qua di qua vai 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 no di qua dritto 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 vai è il trucco dei soldi infiniti beh che vedo gente ma deviamo tirare col lanciò non vedo c'è noi li dagen mamo meno da notte ah vuoi difendere credo qualcuno perché questi qua sono amici aspetta eh aspetta la gente ULP non vado Marco dici a mirare da qua attenzione no no agli aerei elicotteri si elicotteri si ma se i missili un po' scarsi e ma no oh la è meno un eh si vediamo farla eh a parte l'elicotteri eh ce n'è ancora uno da far fuori eh meglio seguire l'altro elicottero l'elicotterino sta scappando via andate lì dietro veloci 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 prima che muoia mamma ha fatto fuori l'ultimo e per vedere l'agente ULP non va su che si caia caschi si attenzione a un altro elicottero uh ho visto le esplosioni vedo dentro la rosso oh e questo eh bisogna essere dietro corrente vedo qui vedo qui vedo qui che cazzo allora è la minchia ma perché hai visto ma che cazzo ok ci spostiamo ok ci spostiamo ehhh mi interessa creduta una cacca di qualcosa abbattimento richiesto di elicotteri ci stiamo ripiazzando vai fabio no hanno girato fai fuori questi qua davanti proprio vai vai si sparano la gente vedete eh sono anche sopra di noi ok qui che gira se non c'è parlo vado 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 no no sono quasi morto neanche tu sei pronto praticamente vado 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 aiuterei cacchio c'è gente con violenza elicottero elicottero bene e c'è una macchina viola no quella dei nostri più avanti sono nemici quelli eh ma perché mi fai entrare in galleria va bene c'è nulla no no c'è stata eh agente ULP sta un po' diminuendo eh sì c'è no perché eh ma adesso saltiamo fuori dalla galleria mi sto pitando sto saltando eh non così saltando hanno un elicottero da liberare adesso ci avviciniamo così facciamo due elicotteri da liberare vai fabio tu ti cremo madonna ahio che è che mi appena ce n'è un altro un altro nooo un altro un altro un altro io vedo praticamente la torretta la che si mette a girare in maniera spastica da un po' di deportanza buona ma ma aiuta muovi il camion eh muovi il camion dobbiamo anche far fuori un po' di gente buongiorno Servizio rimozione forzata Vai! Eeeh... Bene, un altro Fai fuori un po' di macchine No, macchine no Un altro alla destra Alla destra, alla destra Eeeh Via 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 che c'è troppa gente Ci sparano, ci sparano Un passaggio No! Che cacchio Ci venite a torsare proprio in cattiveria Si ma no vedi il contromano Eeeh Fa più in fretta Le macchine sparita Vai! Tutto tuo! Eeeh, vieni qua Vieni qua Guardalo, guarda Oh la Ah E' mio E' mio E' mio Cosa non è quelli? E' quella Beh Eeeh Eeeh Ce ne abbiamo uno E' mio Non problema Adesso Fire! Oh, bene Oh, bene Io ho una destra Lui Ma abbiamo quanti elicotteri ci sono Eh, la persona importante è questo Sì sì, a fortuna che che muo' lancia Eeeh Eh, dobbiamo spostarti perchè sennò la citata no Ma abbiamo? No ma Tori Sono... Tornati Tornati Eeeh Eeeh Chissote Tornati Tornati Eeeh Tornati Ho una lunga battaglia Eeeh Cromo 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 si tratta di vabbè dovremmo aver finito comunque dovrebbe essere arrivato finalmente bronzo weee platinus 36.000 dollari attenzione 2600 RB io ho 1.7 perchè platino quante uccisioni ho fatto penso tante per per aver vinto il platino con lanciarazzi latte con lanciarazzi anche io sono capace di fare di rato con quello carica 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 si comunque se ci fosse un aggancio quasi immediato sai che razza di distruzione totale qua sta ancora caricando a modi mitraglietta comunque sarebbe bello avere in realtà una una bella del genere no neanche visto quanti kg ho fatto vabbè pazienza beh una macchina tutti i giorni diciamo si si allora depositiamo il denaro e direi che per questo video di GTA e tutto faremo molte missioni simili o comunque giusto per depositare e guadagnare un po' di di soldi dato che abbiamo bisogno di un milione per poter andare ad acquistare una stanza nel nel casino per poi riuscire a fare il colpo come si deve detto questo ringraziamo i nostri amici criminali noi abbiamo buldir ciao qui abbiamo cobra ciao a tutti e kliors noi lo conosco abbiamo fabio ciao a tutti più conosciuto come kliors detto questo commentate iscrivetevi e lasciate un bel like ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ciao